Si approfondisce la frattura tra Canada e Unione Europea dopo il veto della Vallonia all'accordo bilaterale di libero commercio. Il premier canadese Justin Trudeau ha cancellato in extremis il suo viaggio a Bruxelles, dopo che ieri sera la delegazione del suo paese aveva abbandonato le trattative. Da giorni il governo belga cerca di convincere la regione della Vallonia non opporsi al trattato col Canada, ma le posizioni restano immutate. Una nuova riunione del Comitato per la Concertazione è prevista per oggi, al termine della quale verrà comunicato l'esito agli ambasciatori dei 27 paesi dell'Unione. La complicata formazione delle decisioni in un paese federale come il Belgio è da tempo oggetto di polemiche e c'è chi sottolinea che impasse di questo tipo nuocciano non poco alla credibilità dell'intera Unione Europea sullo scenario globale.